Mamma Carmela dov'è? Mamma Carmela, allora, consegniamo la coppa, perché poi dopo ci sarà il gran finale. Immortariamo un momento i vincitori del primo Memorial, Cristian, oddio, Mimmo, Mimmo Team, consegna Mamma Carmela, prego. Tanti ragazzi hanno affollato nei giorni scorsi il campetto delle calcinali a Vallo della Lucania per il primo Memorial, Cristian, Vitiello. Il 17enne, scomparso qualche mese fa, ha seguito di una grave malattia. Il 29 maggio Cristian avrebbe compiuto 18 anni e nell'occasione la madre Carmela, insieme alle sorelle e tantissimi amici, hanno voluto condividere il momento insieme alla comunità di Vallo. Un momento per ricordare Cristian e la sua grande voglia di vivere. Cristian ha lottato fino alla fine, lasciando una grande testimonianza di vita. La famiglia Vitiello, profondamente provata per la scomparsa di Cristian, ha voluto dar vita all'associazione attraverso le mani di Cristian, un'associazione che lavorerà nel campo sociale con l'obiettivo di dare aiuto alle persone in difficoltà. Ecco, rivolgiamo un pensiero, un messaggio a Cristian che sicuramente ci sarà ascoltando, ci sarà guardando. Auguri, auguri, noi li facciamo a mamma Carmela. Al termine della due giorni una torta per ricordare i Cristian e la premiazione delle squadre che hanno partecipato al Memorial. Grazie a tutti. Grazie a tutti.